Ben trovati ragazzi, oggi parliamo della prima promo di FC25, come l'anno scorso si comincia con il Road to the Knockout, quindi avremo come tema la fase a gironi della nuova Champions League, Europa League e Conference League, confermata già la presenza del signorino qua di fianco a me, cioè Bellingham, ci saranno Frimpong, ci saranno carte come Romero, ci saranno giocatori come Diogo Iota. Fatemi sapere nei commenti, innanzitutto, chi vorreste vedere della Serie A, perché abbiamo ben 5 squadre già soltanto in Champions League. Adesso vi faccio vedere anche come funzionano gli upgrade, perché sono più interessanti e un po' più difficili rispetto all'anno scorso. Vi spiego brevemente ragazzi che potete accedere al nostro server Discord abbonandovi ai link sottostanti, dove avete un sacco di guide, guardate quante guide per poter far compravendita, budget alto, consigli, budget basso, consigli, ogni giorno nuovi messaggi, ogni giorno nuovi consigli e potete fare anche voi crediti facilmente per il vostro team in FC20. Promo in arrivo venerdì al rilascio della Standard Edition, Road to the Knockout, esattamente come lo scorso. Allora, 3 sono gli upgrade totali. Il primo è un più un overall, qualora la squadra in questione vincesse 2 partite. Valgono le partite successive al rilascio della carta nella promo. Il secondo upgrade si fa in massimo 4 differenti partite. Il giocatore deve segnare più di un gol. Chiaramente per quanto riguarda difensori e portiere sicuramente ci sarà la questione clean sheet. Per quanto riguarda questo upgrade qua, il giocatore riceverà un overall aggiuntivo più 1 e un ruolo plus aggiuntivo. Il terzo e ultimo upgrade darà un PlayStation Plus aggiuntivo e un ulteriore ruolo plus aggiuntivo. e la squadra di appartenenza del giocatore deve finire in top 2 nel girone chiaramente al quale appartiene. Champions, Europa League o Conference League. Fatemi sapere nei commenti se questi upgrade vi piacciono, se la promo è quello che vi aspettavate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!